Non parteciperà a nessuna riunione di commissione né ad alcuna seduta di consiglio comunale la presa di posizione del consigliere di opposizione Rita Greco che punta a delegittimare questo consiglio comunale di Pagani e con esso l'attuale maggioranza di governo. Anche altri di minoranza potrebbero seguire le sue orme in attesa della decisione della prefettura di Salerno su indicazione del Viminale. L'ex sindaco Bottone parla di situazione paradossale. Però è assurdo che ancora ad oggi non abbiamo, ma non solo noi ecco che siamo parte della minoranza ma io credo anche la stessa maggioranza ha necessità di sapere qual è il percorso, qual è il futuro della giunta comunale, qual è il futuro del consiglio comunale. Se abbiamo un'amministrazione che è legittimata a governare o oppure no, quindi credo che questo stato di cose dura già da troppo tempo e non credo che la città di Pagani lo meriti. Noi non abbiamo mai preso parte alle votazioni, non prendiamo parte alle commissioni e quindi effettivamente hanno tolto la possibilità alla contrapposizione, al dialogo, alla discussione all'interno anche del consiglio comunale o delle stesse commissioni perché non diciamo facendoci partecipare alle commissioni perché noi riteniamo che non c'è ancora appunto la legittimazione ma se il ministero adesso ha deciso e quindi devono dichiarare qualcosa lo facciano in fretta. Credo che però qui a breve la prefettura dovrà intervenire, tant'è vero che chi ha mosso ricorso contro il sindaco Gambino è stata la stessa prefettura, quindi il prefetto di Salerno. Sono loro che adesso ci hanno portato in una situazione così ancora di obblio ma credo che alla fine sono certo che lo stato non può stare fermo e dovrà intervenire. Intanto ieri sera vivace dibattito politico nel corso di una riunione di maggioranza forte sarebbe stata la richiesta di un rimpasto dell'esecutivo alla luce della pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore sulla incandidabilità e soprattutto dell'uscita di scena del sindaco Alberico Gambino che hanno smosso le acque in seno alla coalizione che aveva sostenuto il consigliere regionale nella campagna elettorale delle comunali. Ora con la guida di Palazzo San Carlo affidata di fatto al vice sindaco Anna Rosa Sessa c'è chi scalpita per un posto al sole non riconoscendosi nella squadra che Gambino ha lasciato a guidare le sorti della città. Grazie a tutti.